Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sulle colline di Valdo Biadene, precisamente vicino al Molinetto della Croda. Questo è il parcheggio del Molinetto della Croda e oggi vi porteremo al bivacco Marsini. È un giro d'anello di circa due ore e partiamo. Tutto il percorso è segnato da questi segnali gialli e blu e non quelli cai bianco-rossi. Durante questa passeggiata si incontrano diverse strutture da affittare, molto belle. E comunque, per chi se lo chiedesse, il percorso che stiamo facendo è un percorso contrario di quello, diciamo, ufficiale. perché il nostro obiettivo è poi far pranzo nel bivacco e dalla partenza, ok, dal parcheggio erano 20 minuti perché abbiamo fatto il giro contrario, così abbiamo un'ora, un'ora e mezza di camminata e poi facciamo il pranzo finale lì. Ecco qua i maroni appena trovati e poi speriamo di riuscire a cucinarli. Siamo arrivati circa a metà strada, la strada è con leggere salite ma anche bei paesaggi. e niente dai, ancora un po' di camminata e ci siamo, abbiamo abbastanza fame. Ci siamo, pochi centinaia di metri separando dal nostro bivacco, non è che ci siamo? Eccolo, eccolo, prime panchine, eccole qua, panchine. Andiamo giù. Come possiamo vedere, qui c'è la griglia, anche prese molto bene direi. panchina fuori. L'interno, camminetto, ora per fare i maroni? Perfetto. E' la stanna, la porta fuori questa. Bellissima direi. Siamo riusciti ad arrivare, a dare un bel spritz. Vado a morire, a rullare la cazza. Contenta? Sì. Guarda che non aspetta nessuna. Siamo secca ragazzi. Ed ecco qui il nostro pranzetto. Ed ora vi faccio vedere il nostro fuoco, cosa stiamo facendo da mangiare. Ecco qua. Lei ha bacon burger direttamente in bivacco. Ma è il bacon burger, meglio dal McDonald's, con vista sulle colline. Bene, stiamo tornando dal bivacco. e stiamo andando verso il molinetto della Croda. Ecco qua, un po' scuro però. Molinetto della Croda. Questo molino è del 1600 e penso sia uno dei luoghi più belli d'Italia. Siamo alla fine della giornata. Spero che questa camminata vi sia piaciuta. Vi saluto. Vi invito a mettere mi piace e a iscrivervi al canale per sostenerci in queste nostre caminate. Vi ringrazio di essere arrivati fino a qui e ci vediamo in un prossimo video. Grazie. 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 Grazie.